Sicuramente è una partita tosta, importante per noi, ma sicuramente anche per loro. Sappiamo il valore del Giappone, hanno molti giocatori importanti, cui hanno limitato anche nel campionato italiano, quindi li conosciamo molto bene. Tornare in campo con la maglia azzurra è sempre una bellissima sensazione. Certo, c'era anche un po' di tensione, quella non manca mai, però è sempre bellissimo ricominciare a giocare per l'Italia. Sicuramente il Giappone è una squadra molto collegata e molto bene, si ha muro difesa, sappiamo che comunque la qualità dei giapponesi in difesa è molto alta, sono molto bravi anche negli attaccanti, hanno dei buonissimi attaccanti, quindi cercano di sbagliare il meno possibile e cercano di spercare il meno possibile. Lo dovremmo fare anche noi e cercare di mettere in difficoltà, soprattutto con la nostra battuta. Dovremmo cercare di pensare partita dopo partita e cercare di portarci a casa più punti possibili per arrivare al meglio nei finali della guardia.